Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video da Francia 11.11 oggi siamo qua su Browstars, nel nostro account solo Shelly perché se non avete visto il video precedente dovete andarlo assolutamente a vedere di questa serie fantastica in cui andremo ad utilizzare fino al 12 di novembre in questo account solamente Shelly come vedete per questa settimana qua, oggi è venerdì sono riuscito a portarla al grado 15, non è tantissimo effettivamente ma mi sono concentrato un po' di più sul mio account principale dal momento che appunto volevo fare un po' di coppie lì dal momento che poi fra poco finirà anche la stagione quindi volevo appunto scalare un po' ma comunque sono riuscito a farmi appunto queste 314 coppie ho sbloccato anche altri Brawler che ovviamente dovevo a parte Bombardino e Poccio che ho trovato Nita, Colt e Bull l'ho dovuto sbloccare perché se no non posso riscuotere le ricompense successive quali punti energia, casse Brawl, casse enormi e quant'altro che mi saranno poi utili per trovare punti per potenziare Shelly ce l'ho già a livello 5 ma direi che possiamo andarci a fare anche guardate la quantità incredibile di missioni che abbiamo qua però ne abbiamo solamente due con Shelly vabbè ci andiamo a fare una sopravvivenza in solo così tanto per continuare appunto un po' questa serie di partite qua ce ne saranno veramente un sacco vediamo quanto riusciremo ad andare avanti anzi iscrivetevi qua sotto secondo voi quanto riesco ad andare avanti in questo account e forse ve l'ho già chiesto nello scorso episodio ma comunque mi interesserebbe appunto saperlo iniziamo subito con l'emo tattica perfetto questo bull qua scappa ok va bene lo lasciamo stare non capisco cosa voglia fare lì probabilmente dietro non sa se attaccare o difende è completamente sbagliato ho sottovalutato il bull non avevo neanche visto quanti power up avesse mi sono infilato troppo di me stesso ok comunque seconda partita sponiamo in alto c'è veramente pieno di casse in questa mappa il che è molto buono ah una jackie attenzione primo brawler super raro che incontro in questa serie forse prima qualcuno tipo penni magari stecche stecche poi attenzione comunque fatto sta che dobbiamo stare un secondino attenti perché qua si avvicinano due shelly c'è sganciato una super pro da distanza media quindi non ci ha fatto troppo male qua c'è uno che si chiama give me crow ma stiamo andando decisamente male stiamo andando decisamente male comunque guardate quante missioni ci sono ripristino a punti salute sconfiggi 24 nemici sconfiggi 15 nemici insomma veramente pieno zeppo di roba comunque proviamo ancora un gioco ancora ok direi che dopo questa partita qua possiamo provare a farne una in una 3v3 giusto per vedere se riusciamo ad andare meglio perché non capisco cosa stia succedendo prima non facevo altro che vincerle adesso invece è normale perché al grado 15 comunque un grado un po' più alto si inizia a perderne comunque attenti qui alla shelly li sganciamo alla super ok attenti al bull che si si avvicina abbiamo un raggio un po' più lungo del suo quindi è una cosa positiva però dobbiamo stare molto attenti perché bull comunque da vicino fa più danni di shelly allora attenti teniamocelo a distanza dovuta una bella super così ben piazzata ottimo e ci richiamo a prendere qualche altro power up ok scontro finale ottimo non me ne ho manco accorto che ci fossimo rimasti così in pochi comunque facciamo 2700 di danni a colpo adesso probabilmente anche di più 2880 attenti 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 potrei sganciarla super ma voglio essere sicuro di quello che faccio ottimo uh ce l'aveva pronta anche lei proprio se fosse stato un istante di più ma avrebbe probabilmente distrutto ok allora contro abbiamo un el primo un anita e una rosa mentre con noi abbiamo un el primo e un barril va bene mentre ovviamente c'è noi con shelly allora dobbiamo provare subito a ricaricarci una bella super tattica in modo da poter fare danni cosa che abbiamo fatto perfettamente l'anita e li ferma ottimo quindi eh però qua il primo e la rosa fanno comunque anche a livello 1 tanti danni o livello 1 magari livello basso in generale perché qua siamo a livelli comunque abbastanza bassi uh la rosa uh ok l'anita si è attivata ma può darsi che sia un bot qua l'orso però ci sta a inseguire ci sta facendo un po' di fastidio attenti alla rosa che sta lì sulla destra che sta inseguendole il primo abbiamo la super proviamo a sganciargliela vamos perfetto un gol di il primo molto molto bello qua però ho fatto un bel errore perché ho aperto un po' tutto qua no che stupidata che ho fatto ho aperto quel muretto lì con le super mi sono lasciato prendere dal panico e adesso siamo 1 a 1 speriamo che finisca bene questa partita qui la rosa con la super non possiamo combatterla ma adesso che se ne è andata si teniti al primo si avvicina pericolosamente dobbiamo tirarlo giù assolutamente ottimo no comunque avete visto come è finita la partita di football mi sono secondo me ho silenziato mi sono auto silenziato perché mi sono fatto un autogol veramente vergognoso però vabbè comunque fatto sta che così è andato questo episodio ci vediamo venerdì prossimo con il terzo episodio di questa serie domani attenzione perché c'è domani il brawl talk in caso non lo sapeste quindi farò un video magari veloce riguardando tutte le novità e poi invece stasera alle 18 siamo su Among Us la nostra prima live su Among Us quindi mi raccomando siateci se siete interessati ma direi che per questo video è veramente tutto mi raccomando iscrivetevi al canale lasciate un bel like al video attivate la campanellina per non perdervi nessuna notifica e noi ci rivediamo alla prossima ciao ciao ciao